Eccoci, 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 e niente, la connessione qua non dura più di due ore, cioè poi per forza si deve sconnettere, è un vero peccato. Attenzione, la skin ci piace di più, io mi sa che dovrò rimettere su quella mia, più forte. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Questa è la Mesopotamia, terra dove la connessione ancora purtroppo non è stabile, e quindi signori, quindi eccoci qua, come al solito, come al solito, come al solito, ci siamo sconnessi, ci siamo sconnessi, vabbè, vabbè, che ci volete fare, che ci volete fare? La smissione è terminata, potete aggiornare un po' tutto quanto. Oh, vabbè, fatemi la giornata. Perché non va? Perché non me va il muro? Non mi metto giù il muro? Perché non mi mette giù il muro? Non mi mette più giù niente? Come mai, secondo voi? Non riesco a mettere giù muri, raga. Non so perché non riesco a mettere giù muri. Allora, da gatto, non so, non so perché, sinceramente. Poi non metto giù muri. Vediamo se è stato un bug momentaneo, oppure se, per caso, riaccade, sarebbe un vero peccato, in realtà, una vera tragedia, tragedia. Non mi faceva mettere i muri. Ci siamo sconnessi. Perché li metto io i muri? No, no, ma... Ah, per quello? No, ma c'era spazio in realtà. C'era spazio per metterli. Vediamo se... C'è ragione astro. No, no, dice, no, non ce n'era. Ok, ok, perfetto, allora ci fidiamo. In effetti... In effetti siamo riusciti subito a metterlo qua. Li metto io, li metto io! Cioè, vado troppo a scatti, capito? Non possiamo... Non possiamo giocare così. Vado troppo a scatti, non è... Non si fa, non si fa, non è... Non è... Non è concesso, non è concesso proprio. Incredibile. Come fare big box? Fammi mettere big box su custom. Big box, eccoci qua, eccoci. Va bene, abbiamo un po' più spazio, eh. Possiamo muoverci un po' di più, vogliamo un po' di raso d'azione un pochettino più ampliato. Poi mi faccio regalare la community One World All una loro maglietta. Bravo, bravo. Se è così fortunale che è fortunato. E gliela regalano. Se è così fortunato che gliela regalano, caro astro, noi siamo più che felici. Poi me la manda, io gliela autografo, ecco, così avrà un cimedio che potrà tenere con sé per tutta la vita. E che soprattutto è destinato a... aumentare di valore. Ma lei ce le ha già messe? Le ha già messe, secondo me? Lei ce le ha già? Che non può essere così veloce, dai. Un giorno mi vorrebbe incontrare. Ma no, non spero di no. Anzi, spero di sì. Spero che un giorno sarò così popolare da poter organizzare degli eventi con tutti i... tutta la community. Perché no? Perché no? Ma sa quanti anni devono passare? si sposerà, penso, nel frattempo. Penso lei dovrà prendere un po' a sposarsi, eh. Ma caspita fa, scusa. Com'è che qui fa? Guarda come mi trolla. Qua non ci sono i giocatori forti, però. No, non fa sti giochetti qua, eh. Benvenna, c'è la mosca. Sai cosa ti dico? Guarda che... Che colpo ti faccio adesso? Da maestro! No, da maestro no. Ma dai, con un 100 non ti ho battuto. Impossibile. Faccio io i muri, ha detto. Li faccio io. Ma dai. Ma dai. Vabbè, cioè. Dico, ma dai, come se fosse... un evento più unico che era il fatto che Astro mi abbia battuto. Però, beh, sì. Sì, qua su Twitch, qua su Twitch. Andiamoci su Big Box, va, agli ultimi dieci minuti. Andiamo a trollare un po'. Noi, Astro, adesso, eh. Andiamo noi a trollarla. Hai capito? Cantante degli ex-sex pistol. Non lo facevo così, romantico, sinceramente. Non sapevo nemmeno trovarsi in questa situazione, devo dire. Adesso perché lei non si sposa? Eh, perché intanto dovrei trovare una fidanzata, intanto. Prima roba. Perché, altrimenti, sposarmi così... È caso. Oggi siamo io e lei, sì, sì. Sì, sì, sì. Infatti, immagino che lei si sta divertendo molto. Prendermi in giro, tuttavia. I don't know spanish, but I'll try. Shadow, welcome, welcome. Bienvenido, bienvenido a este canal. Me amo Fabio Mazzon e sono qui per divertirmi e un buon buon LOL che è il mio gioco favorito. Suero fingir che non sei jugar ma è solo per facilitar le cose a tutti gli altri. ma se ti apprezzate un gran reto eres bienvenido. That's my Spanish. Ah, I don't speak Spanish. I'm not speaking Spanish. I try to speak Italian language. It's not Spanish. But for some verse it is maybe similar. But it's not similar. It's not similar. My English is sax. Very sax. But I'm very, very glad you joined it here. From a long, long time ago. Long, long time ago. You know, you know. Usually I pretend to... don't know how to play but it's just for make it easier to the other guys. So... If you're up for a great challenge you wake up, you wake up. Shadow, shadow. Quanto tempo, signor Shadow. Mamma mia, quanto tempo. How are you? How are you? Long, long time ago. I don't write you in chat. Maybe... 100 years. It's possible, yeah. For sure. Oh, okay. I did not understand anything you just said. My English sax. Very, very sax, my English. I know, I know, I know. I pretend, I usually, I usually pretend that I don't know how to play but it's just for make it easier to the other guys, you know. Did you understand? I pretend, I pretend that I don't know how to play. Just pretend. Did you understand? A little, a little. E la fa po' po' cagare in inglese. Veramente, ci mancherebbe. Ma, what, 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 what do you language speak? What is your language? What is your language? Guarda che, guarda, guarda che, che. What is your language? My language is porco dio. Ecco cosa che ti dico. Scusate, no, però, cioè, ho pensato di fargli un 2,50 invece. Ho fatto solo una, l'ho fatto solo una, un 125. I speak English, ok, ok. Have mercy on me, but my English sucks. Mezzo non si bestemmia, no. Chiedo scusa, però. Chiedo scusa, però, e pensavo di fare un 2,50, e invece l'ho fatto solo 125. Una vera tragedia. VATTA ME N'E SBATTO UN CAZZO! What's up, what's up? What do you, what do you tell me? I don't, eh, non, nothing, nothing. Ma tu me ne sbatto. Ha visto che il signor Lello si è ritrovato con la sorella da poco? dopo un bel po' di mesi. Si sono finalmente rincontrati. Che teneri, che teneri. Che storia, più che altro. Adesso io non so, lei Astro, se conosce la storia di Lello, perché molto spesso utilizza questo, questo alert, ma sa di chi è, questo alert. grazie a tutti oh questo qua mi sta un po' sapevo io sapevo mi immaginavo veramente lo sapevo i'm best player like ever ever one one lol oh i'm glad i'm happy i'm happy this is loda she's brother enjoy 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 we have uh 10 minutes you have 10 minutes for uh demonstration enjoy enjoy uh if you if you you defeat uh astro you are the best player uh 26 uh 92 uh zero 26 22 zero that's the code that's the code i'm waiting we waiting we waiting for you if you want if you want if you're up for some great challenger you are welcome welcome if you beat me you are the best player in this channel but i'm sucks yeah yeah for sure for sure for sure we have asked the first 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 pro player in in italy se non altro se non altro se non altro in europa non lo sappiamo eh in europa non lo possiamo sapere let's go let's go shadow waiting for you waiting for you shadow i'll try to beat you yeah 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 europa top 200 e poi vabbè europa è grande eh infatti che per essere primi in italia non è che ci vuole tanto alla fine ci sono pochi giocatori in italia circa 200 circa 200 circa 200 che cos'è una f quella lì no ma non è una f Sì, sì I tried to join after this game Very, very well We're waiting for you We are waiting for you We are waiting for you S'ha abbassata la sedia Meso vuole che la difendo Sì, grazie Sarebbe molto gentile 26, 92, 0 Try to change server and enter in a Europe server, dear shadow Please Play one more game I'm getting on a text of what? Ok Ok Vuole studiare per bene l'avversario, secondo me Ok Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pissi, pissi. Come on, come on. We have no time. We have not very time. I'm in the lobby. I don't see you. I don't see you. I'm joining. I don't see you. You aren't in the right lobby. No, I'm just pranking you. Okay, you are in the lobby. Okay, okay. It's okay. It's okay. Let's go. Let's go. Let's go Celtic. That's not me. I didn't saw it. I didn't saw you. I didn't saw you. I don't know who is Celtic. I don't know who is or his. Celtic fly. Fly Celtic. It's like a bird. Celtic. Celtic. Oppure Elimineto. Adesso eliminiamo anche quell'altro. I'm the most player sucks in Italy. Most? Oh, the first. For nothing one. For nothing one. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Oi, oi, oi. Come on, come on, Shadova. You are not. You didn't was in a lobby. 26920. Ciao, Forza Vicenza. Ben trovato. Ok, adesso ce l'abbiamo. Now you are in lobby. For sure, for sure, for sure, for sure. Molto bene, molto bene, molto bene. Qua sempre molto bene. Anche se, ovviamente, la connessione dopo due ore è saltata, però, però, dai, per il resto tu. I joined, yes, yes, I saw you. Cheryl, for me, it's pranking. It's possible. It's possible. Lei come sta, signor Forza Vicenza, invece? Come sta? Tanto tempo, tanto tempo. Tutto bene, molto bene. Cosa si racconta a Costa Bissarra? Che cosa si racconta? Anzi, io faccio così. Nevica la Costa Bissarra. Non è di che. Immaginavo. L'importante è che non nevichi a Costa Bissarra. E qua, no. Perché nevichi a Costa Bissarra qua, no. Come ho fatto a non prenderlo? Sto astro, ma dai. Ma qua, secondo me, mi stanno trollando proprio a volontà, a volontà. Astro, soprattutto, secondo me, astro sta usando le hack. Ma ce le ha al minimo, così noi non ce ne accorgiamo. No, non è vero, non è vero. Izaide, sì. So sad. Astro è un molto, molto, molto buon giro. È un giro, molto buon giro qui, Astro. È il primo giro in Italia. In Italia, il primo giro. Uno dei primi. È un giro. È un giro. Where are you from, Shadow? I don't remember it. Where are you from? I forgot. Astro Goldmode. Celtic. Maison ha sentito il 200 di testa. Per un pelo lei non ne sentiva un 250. Per esempio, per esempio. Niente, Shadow. Ha detto, va bene, lasciamo stare. Ora non le uccido. No, no, ma che non le uccido. Siamo in tra... Che team vuole fare se siamo in tra... I'm from Dubai. Wow. Ah. I never asked you that. Dubai, wow. What is the time to buy? Just right now. What was the time? What's the time here? Over there. What is the clock? Clock, clock, clock. Here he is... 14 past 9 p.m., for example. What is the time? Over there. Clarity, clarity, clarity. Clarity. Here is the time for sleeping. Cos'è il codice C.G.C.Pokémon? È questa roba qua. Qui qua sono tutti i codici che si trovano all'interno delle varie bustine di carte Pokémon. Siccome io in passato ne ho sbustate veramente tante e ho acquistato veramente tanti prodotti Pokémon, sono pieno di questi codicini qua. e con questi codicini qua lei ha la possibilità di andarsi a pescare in maniera totalmente casuale delle carte che appartengono alla serie in questione dipende dal codice, no? e io non ne so molto perché io sono stato un collezionista di carte materiali, capito? Però c'è sta roba qua che lei può giocare e collezionare le carte sostanzialmente in online. Ecco, questo è. E si può anche giocare, cioè si può comporre i mazzi come più le pare e piace. aveva 200 uh.... pingo I avevo più, 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 più slegme I have a 400 ping 400 ping yes yes I know cuz you are in Europe server and that can can be a problem or for you for your game yeah I'm a car about a vita a little alive alive live a ping what's time o'clock what's time all o'clock here over there Dubai to pay post time o'clock stavolta stavolta sono stato più veloce io continuavano a chiamarlo trinità continuavano a chiamarlo trinità fateci vedere quel che c'è che quel che di cesare is 15 past 12 ho visto che botta forza vicenza visto che botta it's time to hit to hit time to hit time to hit it's p.m. or am beh se è scritto 12 sicuramente happy I am I am I am I see I am I am I am I am time to hit something time to hit something and how you discovered this game the shadow how you discovered this game now I'm just sliding chilling yeah yeah I'm just feeling too it's the same it's the same say for me say for me oh youtube hai capito I am I have a little channel on youtube if you want to see some clip of one one you can you can see in my youtube little little channel quando prenderà il nuovo pc quando arriviamo agli abbonamenti tanti abbonamenti servono coperti per po' o bit per prendere il nuovo pc attenzione c'è un tentativo di porco giuda non si può dire però ce ne vorrà tantissimo tempo caro forza vicenza penso eh questo ci vorrà tantissimo tempo ancora molto tempo tanto tempo volevo testare sulla sua mira hai capito hai capito ok ok perfetto i credit card is 2 to 8 that's fake btv ah ok 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 don 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 share don share beh a parte che se c'è un cacchio da fare share qua mi dia anche il numero il cvc dimmi cvc please lol no si si c'è ma mancano 130 per il a me mancano 130 per il nuovo monitor eh dai pian pianino ci arriverà oh per il forza vicenza a me ne mancano circa 1500 2 mila no volevo dire 120 ma dai che bello sdias ya ya you speak spanish you speak spanish language oh no no i don't speak spanish ma suelo fingir che non se esugare però sta solo per facilitare la scuola allos de mas lati ai genti no no intende non intende non intende non intende nada scucia me scucia me scucia me scucia me signori ci dobbiamo fare le ultime partite e poi ci salutiamo attenzione facciamo le ultime tre dopo ci dobbiamo salutare perché non è tardi però come mai non va il codice? in che senso non va il codice? per entrare? in gioco? muchas gracias la sparición suuuu non me lo fa prendere ma che cosa? coi punti canale ma lei quanti punti canale ha mi scusi? per un attimo per un attimo lei quanti ne ha? vediamo intanto quanti ne servono suggerisce il sondaggio? deve averne mille deve averne eh ne ha 500 salgono mille eh beh con 500 porco giuda devo mandare il codice a Samu dopo quello di Gran Festa eccolo qua eccolo qua ma segna 500 per il codice no mille mi sembra mille ha 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 dice sego eh no i play with 10 fps 10 fps cioè ma ti rendi conto? 10 fps who is the player? play with 10 fps that's me that's me only me what is your name? just curious my name is fabio meso fabio meso fabio meso fabio meso you can you can read in channel fabio meso archives on youtube fabio meso archives on youtube fabio meso fabio meso fabio meso and what is your name? my name is fabio meso fabio meso fabio meso your parents is some of your parents are italian 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 people guys canino canino is a name italian italian name italian name italian name canino io ne ho due canini che se le tessere i am su canino my name is fabian my name is fabio my name is fabio my name is fabio your name is fabian haha that's great that's great fabio e fabian fabian canino canino mandeke 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 signori mandeke mandeke yeah 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 for sure for sure it's not a joke it's not a joke i think you 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 not lie me your real name is fabian canino oh no your real name oh hello here shadow boy elon c thank you thank you for following and welcome welcome to meso to temia io mi chiamo thomas turbato thomas turbato ma dai vaffanbrodo io che leggo anche sicuro yeah that's my name nice to meet you nice to meet you it's a pleasure i'm fabio meso and i'm here to have some fun on one one lol which my favorite game i usually pretend that that i don't know how to play but it's just for make it easier to the other guys an example is astro 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 lupiteco for example rename oh io l'ho cercato quella roba lì del rename eh sinceramente l'unica roba che ho visto è che si può fare il rename il rename di stream elements ho visto io cioè rinominare stream stream elements il nome del bot di stream elements ma non ho trovato altre informazioni sul rename eventualmente se vuole se ha qualche informazione mi vuole mandare del materiale da studiare BANCOD I WANT you to sh** on them i i i i it's a hard life struggle for me in one one lol hard life struggle how life struggle I play well when I'm not in live cos i have not not much programs works in mio PC, il mio PC non è performante per giocare e streaming ho un Macbook Pro 17, che capirà play good, voglio che ti s***erò capito io, non è facile negli altri canali mi vale rename gli altri canali sono molto più avanzati di noi caro Forza Vicenza ho dato un'occhiata stamattina cosa vuol dire, che lei praticamente premendo il comando rename, torna al vecchio nome che aveva prima, ma questo mi sta dicendo ok, 2 PC, 1 per stream, 1 per play yeah, but it's not necessary have 2 PC basterebbe 1 basta 1 tutto bene rename that long flow no 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 non ho capito sta roba Forza Vicenza mi informerò ulteriormente cercherò di informarmi ulteriormente magari anche sabato che tanto avremo un bel po' di tempo qua eh no peli del naso, no adesso a parte che non funziona così peli del naso per fortuna per fortuna play very good this game, no no, it's not me, it's not me it's not me I'm just a noob but they have some fun, it's very very easy and chilly and chilly don't troll me, don't troll me io ho già ti dice ne ho 50.000 però complimenti I was uh thank you at game yes yes I was you I was you infatti your name is uh is not new for me I know you I saw you I saw you I saw you I saw you online ciao ciao qua ciao qua ciao qua ciao qua visto come si fa giocare eh dobbiamo salutarci signori è giunto è giunto il momento il veneto che dialetto spettacolare a me sinceramente non piace proprio il veneto e non mi piace nemmeno avere il dialetto veneto ii ii son vi dirvi Hi ii ii los a ya ya yah youtube 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 ma come si forza vicenza io non sono uno di quei patriotici c'è che adorano la propria regione regione e quant'altro capito non mi piace proprio mi piace proprio il veneto ma mai piaciuto oppure essendo cresciuto in una famiglia che comunque ha sempre parlato in dialetto cioè quindi questa amica qua a togliere i peli dal naso proprio capito alle bambole per esempio però così facciamo l'ultima poi ci salutiamo è giunta l'ora è giunta l'ora padre padre per me è giunta l'ora di andarcene signori che peccato un vero peccato una vera tragedia io ora vado su stampo e caspita ma lei astro a lei non piace leggere non ci sono più su uno di uno d'olio ah ok 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 non le piace leggere cioè potrebbe in realtà leggere qualcosina potrebbe leggere qualcosina magari un'oretta mezz'oretta così no no piuttosto che stare ore e ore e ore davanti a un computer poi caspita io si leggo 100 pagine al giorno se voglio no beh se voglio ma le deve leggere non è che sarebbe molto utile per lei a leggere ma anche per noi per tutti non è che sia faccio io adesso qua la testa blu la faccio vedere io la testa blu qua forza vicenza io si leggo eh si si leggo 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 vado a leggere va vado a leggere astro buona serata buon divertimento comunque grazie no 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 you have aimbot how did you hit the snipe I don't I don't use I don't use I don't use nothing he was in the air yeah 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 but but I don't use aimbot I don't like I don't like hack hack c'è il mezzo lei ha moderatori no 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 non abbiamo moderatori qua più che altro si ce n'è ce n'è c'è sia l'automod che pure stream elements perché che l'ho settato veramente molto molto bene al contrario del rename però non abbiamo moderatori in quanto qua per diventare moderatori è difficile sono troppo esigente anche perché comunque le sembra che abbiamo bisogno di moderatori su via su via tuttavia un paio di settimane fa sto quasi pensando di cercare qualche moderatore io sono moderatore in tre canali ma lei e maggiorenne ma de che mande che mande che lei e maggiore che sono rimane che buonasera nessun enzio buonasera buonasera lei benvenuto per i trovati arrivato proprio alla fine questa bellissima live ovviamente che si è interrotta dopo due ore come la connessione due canali piccolini e uno di 65 mila volte lei ripeto è ma è maggiorenne caro forza licenza come va come va nessun enzio come sta buona serata buona serata no non è maggiorenne ecco io avrei veramente molto piacere che se mai avrò dei modellatori mi piacerebbe fossero maggiorenni mi piacerebbe mi piacerebbe conoscessero twitch meglio di me e beh basta questi sono i requisiti fondamentali poi comunque mi piacerebbe fossero persone che con le quali comunque sono riuscito a creare un rapporto anche di fiducia soprattutto di fiducia comunque mi fa piacere che lei faccia il moderatore su su tre canali vuol dire che comunque le piace qui c'è le piace twitch lo segue lo segue ma de che ma de che ma de che dobbiamo finire raga veramente adesso faccio l'ultima poi la finiamo forse non faccio neanche l'ultima perché se c'è fatto tutto vediamo segno del destino il segno del testo può essere può essere siccome noi siamo drogati vediamo se fosse parte quale dai no love your stream a join back next stream and final watch stick dog i so i so it thank you for following and thank you very much for your presence here very 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 glad I'm very glad si presso il moderatore devi sapere tutto di comandi eccetera infatti 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 quindi se vuole inviarmi lei una guida su come impostare il rename magari no the stream elements ci farebbe molto piacere thank you so much shadow we see see you soon see you soon have a good day have a good day va bene grazie mille aspetterò volentieri o sul telegram o sul discord o sul dove vuole lei dove vuole lei qua signori il gioco si è bloccato proprio giusto mentre nel mentre stiamo per terminare questa nostra avventura signori che oggi molto bene molto bene è stato un piacere è stato un piacere veramente molto molto grande rimanere in vostra compagnia signori ci siamo divertiti ne abbiamo viste di cotte di crude sono stato anche molto contento in realtà condividervi l'articolo sull'ex front man dei dei sex pistols è stata è stata una bellissima storia d'amore è stata una bellissima storia d'amore d'amore a me non resta altro che ringraziati ovviamente ti dal mio appuntamento domani ovviamente solita ora dopo le 19 noi più o meno 19 06 19 07 stappiamo sempre e grazie di cuore fai chi fai chi va rimasti fai chi va rimasti ci vediamo presto signori mi raccomando dai e tutta ciao meso buonanotte buonanotte anche lei carlo forza licenza è stato piacere aspetto la guida aspetto la guida ma soprattutto signori ricordatevi di splendere di ricordatevi di regalare un sorriso a chi vi sta vicino perché questo è molto molto importante grazie di cuore signori buona serata see you soon